Radio Street, grandi, classi G e informazioni. Radio Street Messina. A Palazzo dei Normanni a Corinti avrebbe detto questo palazzo puzzava di mafia e puzzo ancora. Dura la reazione degli onorevoli. Lei cosa ne pensa? Qual è la sua reazione? La puzzo si sente in tutto il mondo, non soltanto a Messina. Il problema è eliminare chi fa puzzo. Io mi auguro che quelli che vengono dopo lo possano avere più di quello migliore, ma non ci spero. Siamo indignati anche noi, non c'è dubbio. Io penso che sia vero quello che ha detto quel signore. Devo sempre approfondire prima di credere a quello che si dice. Affermazioni, come dire, così offensive non portano a niente. Intanto, come dice lui, facciamo e poi vediamo. Non possiamo solo dire queste affermazioni che non portano a nulla. Lavoriamo. Che a Corinti è più mafioso degli altri.